ti diamo forsi ragazzi ma queste classe questo è bene anche in barcellone si sceglie di fare uno scambio di prima in quella maniera qua scusami eh ma guardatelo bene alla velocità della luce inietta mi fa una pippa guardate ma che pagli è nato che debito dopo gli devo rivedere queste cose però che nasce sta il bacione da un metro dalla porta lo faceva anche a polloni quelli qua grandissimo